52esima edizione del festival gallo d'oro si terrà a petreano dal 25 fino al 27 di luglio come verranno divise le tre serate allora le tre serate di festival sono divise partendo il 25 luglio che giovedì con il galletto d'oro dove i partecipanti sono dei bimbi e ci sarà una giuria d'eccezione che li giudicherà poi abbiamo la serata del 26 luglio con uno show anni 90 aperto a tutti e il 27 luglio che la serata finale di sabato con i cantanti del festival canoro della categoria grandi quali sono i requisiti per poter partecipare a questo concorso i requisiti ovviamente la passione per il canto niente di più non bisogna essere appartenenti necessariamente ad una scuola o essere professionisti assolutamente no quindi aperto a persone sia di tutte le età e possono avere anche un brano inedito possono avere cover o brani inediti verranno comunque giudicati dalla giuria prevalentemente in base alla canzone e non al tipo di canzone cover o inedito per il resto viene giudicato e premiato ci saranno anche dei primi in palio ci sono dei trofei per quanto riguarda la categoria grandi che sono i nostri galli d'oro d'argento e di bronzo che sono stati coniati apposta per la manifestazione il galletto d'oro che per i bimbi verrà premiato con un trofeo il miglior cantante e tutti gli altri ringraziati con una pergamena inoltre ci sarà anche l'ingresso libero in tutte e tre le sirate l'ingresso è sempre libero per accogliere tutti senza discriminazioni e senza dover pagare un biglietto lo spettacolo è aperto a tutti